È ufficiale, abbiamo superato gli 8 miliardi di persone sul pianeta, quindi non rompere i coglioni! Quando ti lamenti che dici, non trovo la persona giusta, non trovo l'uomo giusto, siamo 8 miliardi! Siamo salvapopolati, questo pianeta straborda di persone, il materiale umano è l'unica cosa che non manca, cioè è più facile trovare una persona che trovare, che ne so, una gallina, perché galline ce ne sono molte meno su sto pianeta, e quindi non lamentarti, non ti lamentare, perché se tu sei una gallina, poi allora tu fai la gallina, certo che di galli ce ne sono pochi, ma se tu non fai la gallina è più facile che trovi esseri umani, quindi quando ogni volta una persona si lamenta, io non trovo la persona giusta, è perché parti dalla testa di non trovarla, è il tuo cervello che inizia a pensare, io non la trovo, perché ci sono persone che possono andare sulla spiaggia e non trovare l'acqua di mare, non trovare il mare, ce l'hanno lì davanti, ci sono miliardi di ettolitri, non so quanto è, d'acqua e tu non la vedi, perché non vuoi vederla? E noi siamo condizionati dai nostri pensieri, se tu pensi che sei una gallina e che non ti meriti di trovare la persona giusta, non la troverai, anche se ti passerà davanti, ma poi non lamentarti, perché di persone ci sono talmente tante che 8 miliardi, ci sono tutte le varietà che tu vuoi e non è che non puoi entrare in contatto con queste persone, tra l'altro oggi anche con i social, diciamo ne trovi, puoi trovarne a bizzeffe in tutte le salse, grasse, magre, alte, basse, stupide, stupide tante, intelligenti, magari poche, uno poi si accontenta, le istruisci, le insegni, non so, fai qualcosa, però non ti lamentare, non rimuginare, perché più ti lamenti, meno la trovi, quindi non rompere i maroni, di persone ce ne sono tantissime, le città sono sovrappopolate, strabordano e quindi non rompere i coglioni e trovati la persona che vuoi e seguimi su Instagram, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale, felicità benessere, amore autostima e ti do appuntamento al prossimo video, cara malgaciona, ah ti ricordo che sui canali ti puoi abbonare, abbonarsi potrai fare un salto qualitativo nella tua formazione e basta che vai nella home page, tastino abbonati e tastino e poi selezioni l'abbonamento che preferisci, ogni canale ha tanti abbonamenti, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, cara Ciao a tutti.